Dopo Dimitri Nikandrov, vincitore del lungo per quel che riguarda la Nove Colli, si celebra la vincitrice di questa manifestazione. Che vincitrice? Marina Ilber. Innanzitutto, che gara è stata Marina? Per me è stata una gara dura, molto dura, perché il percorso non è il mio, diciamo, e per quello sono contentissima, è stata una sorpresa, mai pensato di poter vincere la Nove Colli. Per te Marina è dura allenarsi, lavorare e continuare questa stagione a ottimi livelli? Sì, è molto difficile perché lavoro, lavoro con i ragazzi a scuola, abbiamo un maso e significa che lavoriamo tanto e poi c'è l'allenamento, è veramente duro ma è una passione e per quello sì, lo faccio. Grazie a tutti.